Una foto incastrerebbe l'ex consigliere comunale di Nocera Inferiore Nicola Maisto, rinviato a giudizio perché ritenuto coinvolto nell'inchiesta Un'altra Storia sulla presunta corruzione elettorale nel comune dell'Agro. Lo scatto preso dal telefono di uno degli indagati è stato depositato dai carabinieri del ROS e riguarda una scheda elettorale all'interno di una cabina con la preferenza Maisto, candidato nella lista Uniti per Torquato. Secondo l'antimafia basterebbe questo a dare un rilievo investigativo all'ipotesi che un gruppo di persone si sia fatto corrompere per indirizzare il proprio voto alle elezioni del giugno scorso. La foto in questione è sul telefono di una ventenne indagata per corruzione elettorale insieme ad altre cinque persone. Proprio dalla lettura dei messaggi scambiati tra gli indagati emergerebbe poi come a beneficiare di voti comprati. Secondo gli investigatori non sarebbe stato solo Maisto ma anche altri candidati. Intanto i 14 imputati andranno a processo nel settembre prossimo mentre si continua ad indagare. Dovranno rispondere di favoreggiamento, scambio elettorale, corruzione elettorale mentre ad ottobre sarà la volta per comparire davanti ai giudici delle persone che avrebbero ricevuto denaro dai 40 ai 50 euro a voto proprio per votare Maisto.